Siamo con Mr. Angelo Gervolino dell'Acquameno, che viene da due vittorie consecutive, una in Coppa, una in Campionato, zero gol subiti. Come stanno procedendo questi allenamenti in settimana? In questa settimana abbiamo avuto un pochino di problemi per colpa del lavoro di alcuni ragazzi, però i lavori procedono bene, i ragazzi rispondono, sono attenti a quello che vogliamo fare e soprattutto hanno una buona predisposizione al cambio di mentalità da quello che magari gli hanno come bagaglio in sostanza. Quindi per ora siamo soddisfatti del loro impegno. Si va sul campo del Sant'Antonio Abbate, una squadra che già avete affrontato, avete vinto in Coppa 1-0, però chissà se troverete proprio la stessa identica squadra. No, ma infatti è la domanda precedente che mi hai posto. Veniamo sì da due vittorie consecutive, diciamo che la prima contro il Sant'Antonio non deve ingannarci. Dobbiamo tenere alta l'attenzione perché siamo sicuri che non troveremo la stessa squadra che abbiamo incontrato in Coppa, sia per uomini che sicuramente qualcosa hanno toccato, sia anche per l'ambiente, giocando in casa loro avranno delle motivazioni diverse, e ovviamente anche per la competizione perché il campionato lo sappiamo e l'obiettivo primario è un po' di tutti. L'Arcameno va lì in cerca dei tre punti? Noi andiamo, come abbiamo sempre detto e fatto, cerchiamo sempre di giocarcela per prendere il massimo del bottino. Poi è ovvio che possiamo trovarci di fronte a delle situazioni diverse. Noi dal canto nostro in questa settimana abbiamo provato a mettere nel database diverse soluzioni in base a quelle che potremmo trovare di fronte e cercheremo ovviamente di dire la nostra anche fuori casa. Indisponibili? Questa è una nota dolente di questa settimana perché sappiamo che purtroppo noi isolani abbiamo questo handicap dei lavori, quindi stiamo valutando la possibilità di avere lista di Romano, Matarese. Matarese ha ancora dei problemini al quadricipite come domenica scorsa, quindi sta un po' cercando di andare a farsi un po' di tecar, quindi stiamo un po' sotto questo punto di vista deficitari. Per ora diciamo questi tre e ovviamente forse anche vediamo, stiamo valutando anche Claudio Mazzella che deve liberarsi un po' dal lavoro, quindi vediamo un attimino già stasera come possiamo metterci in campo. Un lista che settimana scorsa ha regalato il gol vittoria, potrebbe anche essere tre titolari questo domenico? Luca come potete vedere adesso si sta allenando, purtroppo sempre per i suoi problemi al momento lavorativi viene sempre un po' in ritardo, quindi è molto motivato nel mettersi in forma anche quando è da solo, quindi è un'opzione che teniamo in considerazione soprattutto per la diversità, la tipologia di calciatore è diversa rispetto agli altri che abbiamo là davanti. Grazie a tutti.